buonasera a tutti signore e signore benvenuti e bentornati in un nuovo video su questo canale e soprattutto bentornati in uno dei miei video a tema halloween vi ho fatto da poco da qualche giorno una sorta di video all spacchettamento di un mega diciamo una mega sbustata ecco di della mia spesa da lidl perché ha portato come ogni anno le robe a tema halloween quindi ve lo lascio qui sopra se ve lo siete perso ma oggi ragazzi oggi siamo qui per una top 10 era da un sacco di tempo che non facevo una top sul mio canale quindi spero che vi faccia piacere io sono contentissima di farla e oggi ovviamente è una top super a tema a cui tengo particolarmente perché è la mia top 10 quindi la mia top 10 di quelli che sono i giochi horror o comunque con ambientazioni molto cupe quindi horror per me ragazzi perché chiaramente voi potreste dirmi sabri ce ne sono altri molto più spaventosi di questi oppure sabri no questi non fanno paura per niente ragazzi è soggettiva secondo me la paura da questo punto di vista e quello che vi posso dire io è che come sapete sono super super fifona l'avete visto quando vi ho portato alla saga di resident evil insomma l'avete visto come salto in aria per ogni cosa ragazzi tra l'altro vi ho anche fatto una live dedicata a resident evil 7 cioè raga raga da ridere da ridere uscirà ve la farò uscire la parte riassunta e quindi io con i horror ho un rapporto un po di amore e odio quindi questa è la mia personalissima top 10 dei giochi che a me sono piaciuti appunto a tema horror e che di base mi fanno veramente veramente paura alcuni li ho giocati in primis io altri li ho visti giocare da alcuni miei amici barra colleghi qui su youtube comunque anche su twitch gente che comunque li ha portati e io pur non volendoli giocare in prima persona comunque li ho voluti vivere insieme a loro quindi ragazzi preparatevi perché sarà una bellissima top ne sono sicura piccolo disclaimer non ci sono in questo video giochi souls like perché come sapete a me non fanno impazzire nonostante io ne abbia seguiti un paio perché ho seguito sia l'ice of p e ho seguito anche elder ring o raga non mi veniva ho seguito anche volentieri elder ring non ci saranno in questo video perché raga per me sono tanto tanto cupi però per la maggior parte delle persone veramente no tutti giocano i souls like quindi ho voluto lasciare i souls like da parte ecco volevo fare questa precisazione ma ragazzi banda le cianci e cianci alle bande io comincerei e comincerei a partire dal basso quindi partiamo dal decimo posto e saliamo verso il primo sappiate però che il podio comunque i primi 3 4 posti veramente se la giocano non sapevo chi mettere prima quindi prendetela un po con le pinze le ultime posizioni in realtà poi sono le prime però ecco quelle posizioni lì secondo me sono facilmente intercambiabili in base al gusto personale però con calma cominciamo decimo posto io l'ho dedicato a plasmofobia questo perché è un horror di cui si sta parlando veramente tanto in primis anche un mio carissimo amico che saluto ciao matt se stai guardando questo video l'ho apportato e lo continuo a portare sul suo canale magari vi lascio il link del canale di mezz qui sopra la mia testa così potete andarlo a visitare e sta portando un sacco di serate dedicata a plasmofobia devo dire che è interessante io lo sto seguendo non lo seguo assiduamente però sembra veramente veramente carino e quindi tra l'altro adesso sta uscendo tipo una sorta di espansione dedicata ad allung comunque passate sul canale di mezz perché da lì ne saprete di più sicuramente e questa era la mia decima posizione perché comunque si mi fa paura ma non troppo ecco più ansia che paura è un po più ansiogeno secondo me saliamo alla nona posizione e ho deciso di mettere un gioco che di base non è che mi fa paura mi fa proprio schifo che detto così vuol dire tutto e niente ragazzi è un gioco che veramente non riesco a giocare più di 5 minuti perché mi viene l'emicrania e sto parlando di doom famosissimo ovviamente anche abbastanza vecchiotto ne hanno fatte diverse versioni ovviamente mi riferisco a quella più recente tanta roba se vi piacciono gli sparatutto caotici doom sicuramente fa per voi io ripeto l'ho giocato per pochissimi minuti e poi lo devo tipo staccare subito perché mi sento male mi sento proprio male quindi ho deciso di inserirlo nella mia top 10 e l'ho messo alla nona posizione saliamo ragazzi saliamo con un gioco che per esempio ho visto mi hanno consigliato poi alla fine l'ho visto e anche lì è un mix tra ho ridume schifo cioè non è veramente paura quindi è per quello che questi giochi ho deciso di metterli più verso la fine della mia top però comunque sono giochi validi ragazzi che secondo me meritano e uno di questi appunto quello che ho deciso di mettere dicevo nell'ottava posizione si chiama scorn molto particolare molto angosciante e devo dire veramente schifoso sicuramente starete vedendo qualche scena particolare ragazzi orrido veramente orrido quindi se volete passare una serata diversa con gli amici e volete inorridire insieme appassionatamente prendete scorn giocate a scorn direi che va bene così si sale verso una posizione sicuramente più famosa appetibile sicuramente la maggior parte di voi l'avete giocato questo titolo io devo dire che l'ho visto visto qualcosina ma ho deciso di passare oltre per il momento ma sicuramente ragazzi lo giocherò sicuramente lo giocherò perché è un gioco che stramerita e sto parlando di alan wake 2 io in realtà in questa top in questa posizione la settima metto sia alan wake 1 che il 2 perché a me personalmente ho provato l'uno l'uno l'ho giocato non l'ho finito ma l'ho iniziato tra l'altro con voi qui su youtube ragazzi paura paura veramente bruttissimo bruttissimo anche lui molto angosciante il fatto che ci sono queste sottospecie di ombre che ti inseguono non lo so veramente mi ha messo un ansia addosso incredibile e poi va bene alan wake 2 ragazzi ha una grafica pazzesca ho continuato a guardare ogni tanto pezzi di gameplay devo dire che mi ispira veramente tanto quindi il motivo per cui ancora non l'ho giocato e non ho voluto approfondire più di tanto ma so che fa paura cioè mi fa paura già solo con quello che ho visto quindi ho deciso che secondo me meritava la settima posizione scavalcando quindi doom scorn e plasmophobia almeno per me per quello che percepisco io saliamo ragazzi e passiamo adesso tutti i giochi che ho giocato quindi nelle ultime posizioni ho voluto anche mettere qualcosa che magari non avevo vissuto dall'inizio alla fine io in prima persona ma magari appunto l'avevo visto o l'avevo visto giocare o lo conosco appunto per fama ho visto i trailer insomma le ultime posizioni sono sicuramente roba su cui ho messo le mani per meno tempo ecco volevo specificare questa cosa ma ragazzi adesso si parte si passa alle posizioni di giochi che ho giocato io in prima persona e si va alla sesta posizione qua sicuramente ci sarà da discutere perché ho deciso di inserire the last of us ovviamente mi riferisco sia the last of us 1 che 2 perché ragazzi a me fa veramente paura della stovasa a me fa veramente paura io tutt'oggi se dovessi rigiocarli perché ragazzi li ho giocati entrambi dall'inizio alla fine se dovessi rigiocarli adesso farei fatica preferirei giocarli insieme a regia il mio ragazzo per chi di voi ancora non lo sa e preferirei giocarli con qualcuno non vorrei giocarli in stanza da sola o con le cuffie perché ragazzi mi sento veramente veramente male anche banalmente i clicker che sono tra i nemici più semplici a me sentire quel rumore mi fa veramente super senso super paura e anche passare da uno scenario all'altro con quei rumori di sottofondo veramente raga troppa troppa paura quindi ho deciso di metterlo in sesta posizione chiaramente ragazzi non è una top dove il discriminante è il livello di paura ma piano piano secondo me come discriminante entra anche la qualità del gioco ecco non è solo una top dedicata alla paura che mi trasmette ma anche alla qualità del gioco stesso quindi è un mix di questi due parametri ecco perché ho deciso di mettere appunto in sesta posizione della stovase e si sale in quinta posizione con un gioco che sono sicura non vi aspettate perché ho deciso di inserire bioshock ragazzi io bioshock lo adoro è uno dei miei giochi preferiti in assoluto di questa categoria di questa tipologia adoro bioshock e non mi vergogno a dire che dalle primissime anzi battute del gioco a me ha sempre fatto super paura super 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 paura anche proprio l'incipit del gioco quando c'è il video che ti spiega appunto di questa città sottomarina a me veramente fa super paura poi vabbè per non parlare del big daddy di le sorelline tutta la storia del non voglio spoilerare niente a nessuno però tutta la storia che ci sta dietro a bioshock a me fa super super paura e mette un botto di angoscia quindi l'ho messo quel gradino in più rispetto a the last of us quindi si becca la quinta posizione direi che si passa alla quarta posizione con ragazzi ci hanno fatto mille remastered ci vogliono fare il film ragazzi se ne è parlato in ogni salsa sto parlando di until dawn ho deciso di inserire until dawn alla quarta posizione questo perché a me la trama di until dawn piace tanto il gameplay tantissimo io until dawn l'ho portato l'ho giocato ovviamente dall'inizio alla fine ve l'avevo detto che queste posizioni erano tutti i giochi che avevo comunque giocato io in primis e until dawn l'ho giocato dall'inizio alla fine ve l'ho portato proprio su twitch e su youtube quindi lo trovate se vi volete fare veramente due risate recuperatevi qualche puntata perché c'è da ridere e until dawn io lo trovo molto valido sia a livello di narrazione sia a livello di proprio horror cioè a me piace la trama anche lì non vorrei spoilerare sto cercando di non fare spoiler in questo video di nessun gioco e devo dire che la trama e soprattutto le creature che ci sono in until dawn sono tra le mie preferite in assoluto in ambito horror quindi si è beccato la quarta posizione devo dire meritata meritata io until dawn a me piace tra tutti quelli della dark picture anthology until dawn è rimasto il primo in classifica e non solo per me non lo dico solo io ma è una roba oggettiva oramai e sono contenta che ci abbiano fatto una remastered sinceramente non so come sarà la produzione del film non ne ho idea però la remastered secondo me ci stava ho visto il confronto non è male non è affatto male quindi sono contenta ecco se lo merita si sale sul podio signori si sale sul podio si sale terza posizione signori nella terza posizione c'è probabilmente il mio gioco preferito in assoluto della classifica e tu dici ma perché me l'hai messo al terzo posto allora lo metto al terzo posto perché non fa così tanto paura dicevo prima che era un mix tra paura e qualità quindi l'ho dovuto mettere al terzo posto e ragazzi ho messo little nightmares ovviamente mi riferisco sia little nightmares 1 che little nightmares 2 mi sono piaciuti tantissimissimo mi hanno messo addosso un botto di ansia perché io adoro i cattivi di little nightmares adoro queste figure antropomorfe che poi hanno tutti dei problemi dei seri problemi nel movimento insomma dal tipo che allunga le braccia a quello che è cicciottello a quell'altra maestra che ti insegue cioè sono veramente macabri cioè la cosa bella di little nightmares è proprio il macabro quindi per me è veramente uno dei miei preferiti in assoluto però ho deciso di metterlo al terzo posto ragazzi perché ora si sale si sale in qualità e si sale anche a livello di paura ragazzi secondo posto e qua veramente ho dovuto pensarci bene 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 ci ho dovuto veramente pensare tanto al secondo posto ragazzi ho deciso di mettere resident evil ovviamente mi riferisco alla saga perché è tutta più o meno mi angoscia però devo dire che dopo aver provato l'altro giorno resident evil 7 me ne sono completamente innamorata se così vogliamo dire amore e odio in realtà perché mi ha fatto veramente super paura ragazzi il terrore puro veramente aiuto e il fatto che sia appunto in prima persona non aiuta i fifoni come me quindi devo dire che si becca meritatamente il secondo posto per non parlare del fatto che ovviamente io vi ho portato resident evil 1 resident evil 2 resident evil 3 sul canale e avete visto quanto me so cagata in mano quindi non potevo veramente sarei stata ipocrita a non metterlo in questa top assolutamente super super paura da tutti i nemici che mi vengono in mente a partire dai cani di resident evil 1 veramente io avevo paura dei cani che mi azzannavano veramente troppa troppa paura per non parlare ovviamente poi del nemesis di chi più ne ha più ne metta cioè sono tutti super personaggi super cattivi se così li vogliamo chiamare che mi hanno veramente incupito le serate quando lo portavo in live veramente era un'angoscia ogni volta quando sai che ti insegue sai che se cambi stanza te lo puoi trovare davanti cioè raga no cioè è una continua sofferenza quindi veramente non potevo non metterlo al secondo posto anzi l'avrei messo anche al primo se non fosse che mi sono letteralmente innamorata io già avevo visto il film ma poi quest'anno ha spopolato il remake ragazzi non potevo non metterlo al primo posto ovviamente sto parlando di silent evil 2 del remake sto parlando del remake anche se io il silent evil 2 originale l'avevo giocato non l'avevo mai finito perché chiaramente io ho paura adesso che sono grande figuriamoci quando ero più piccola quindi assolutamente l'avevo giocato ma non l'avevo mai portato a termine però ero molto fan del film io ho visto il film di silent evil e mi è piaciuto tantissimissimo a me quel film era piaciuto tanto lo vedevo anche più e più volte durante l'anno anche con mia cugina ero piccolina ragazzi me lo ricordo i miei film top erano sempre the ring e silent evil li guardavo a manetta quindi c'è anche un valore affettivo devo dire ma poi ragazzi sto seguendo il gameplay perché ripeto è un periodo un po' strano per me un po' ambiguo non riesco a giocare horror in questo momento perché ho la testa full questo è un periodo veramente vuoi per il troppo lavoro ragazzi perché sto veramente lavorando tanto sto anche studiando ragazzi non ve lo sto a dire perché farei un video di un video pesante di lamentele non voglio però è un periodo molto molto pesante per me psicologicamente quindi non ce la facevo a giocare un horror in questo periodo quindi ho deciso nonostante dentro di me avessi voluto giocarlo insomma di guardare interamente silent evil remake da colleghe varie sto seguendo sia asmina non so se la conoscete che curo lili comunque colleghe che fanno appunto video e live che stimo e ammiro quindi lo sto seguendo da loro mi faccio veramente due risate con loro e non se ne parla più ragazzi per quest'anno è andata così però ragazzi veramente silent evil remake si becca per me il podio sia per l'angoscia che ti trasmette sia per le ambientazioni super super creepy veramente super paurose il comparto audio ragazzi silent evil remake ha un comparto audio che è terrificante cioè sentite addirittura il vento se vi trovate in una posizione e davanti avete una zona più incavata una sorta di galleria un ponte quando ti sposti il rumore del vento cambia quindi è un comparto audio veramente pazzesco per non parlare della grafica raga la grafica è assurda e pazzesca e ovviamente i nemici che sono particolarmente macabri e particolarmente come dire mi viene anche lì il termine schifoso fanno veramente schifo ragazzi non so che cosa dire cioè a livello proprio di paura credo che silent evil remake sia nettamente superiore anche resident evil perché resident evil ha quei momenti anche di pace o comunque momenti in cui ti distrai un attimo con gli enigmi silent evil è più secondo me calzante da questo punto di vista non lo so mi ha dato questa impressione quindi comunque scegliere tra il primo e il secondo posto ragazzi non è stato per niente per niente semplice quindi chiaramente sia i silent evil che resident evil per me sono intercambiabili cioè mi fanno veramente super paura entrambi tanto da metterli sul podio ecco ci tenevo a specificare questa cosa non sapevo veramente scegliere tra primo e secondo e li ho messi un po così dai passatemi il primo e il secondo come se fossero tutte e due in prima posizione e va bene ragazzi dopo tutta sta chiacchiera ho finito il mio video doveva durare di meno ovviamente mi sono persa in chiacchiere e parole come mio solito ragazzi scusate se sono logorroica purtroppo è così anche ad halloween anche ad halloween è così e niente ragazzi io spero che ovviamente il video vi sia piaciuto era da tanto che non facevo una bella top come questa sono contenta di averla fatta ad halloween sono contenta di avervi parlato un po' dei giochi horror miei preferiti della mia top 10 perché non è un genere che vi porto tanto ma sappiate che io in realtà adoro l'horror semplicemente giocarlo io in prima persona o giocarlo in live mi angoscia veramente veramente tanto devo essere in una situazione mia di stabilità per poter fare una cosa del genere ciò non toglie che li adoro sono veramente veramente belli poi io vengo da un mondo in cui i film horror con la mia migliore amica sono sempre stato il nostro passatempo preferito quindi io sono in realtà una fan dell'horror e quindi ci tenevo a fare un video del genere ragazzi ecco tutto ci tenevo tantissimo quindi mi raccomando fatemi sapere se vi è piaciuto io ovviamente spero tanto di sì se è così lascia un mi piace mi raccomando o scrivimi un commento con la tua top dei tuoi giochi preferiti horror così ci interscambiamo delle informazioni magari mi fai scoprire qualche gioco che potrei recuperare e nulla io ti ringrazio come sempre per avermi seguito fino a qui ti mando un mega bacione ti auguro una buona serata di halloween goditela come farò io si spera ti ringrazio ancora e come sempre ti rimando alla prossima ciao e buon halloween a tutti ciao ciao Grazie a tutti.